Un libro dedicato alle questioni che nascono tra genitori e insegnanti, questo è il tema della puntata di questa settimana di Tra le Righe, incontro con l'autore, l'autore in questione è uno psicologo, psicoterapeuta, ha lavorato nei centri di ascolto di numerose scuole, lui è Saverio Abruzzese, in collegamento via Skype con noi. Ciao Saverio, bentrovato. Ciao ciao. Allora, il libro si intitola Genitori versus insegnanti come allearsi nella sfida educativa del web. Bel tema quello che hai deciso di affrontare in questo libro. E io ti faccio subito una domanda, ma genitori e insegnanti sono più alleati o più nemici nella sfida educativa? È proprio il tema che affronto in questo libro, quel VS che di solito negli incontri di Cugilato sta per contro, no? Vuol dire che, ed è quello che io vedo nelle scuole tutti i giorni, vedo molta conflittualità fra genitori ed insegnanti. Vorrei che quel VS assumesse quello che dovrebbe essere il significato antico della lingua latina, cioè verso i genitori, cioè che ci sia un'alleanza. Io in questo libro narro di diversi episodi di conflitti fra insegnanti e genitori, gli uni che non sopportano gli altri per una serie di motivi. E non ci vogliamo rendere conto che c'è un nemico comune, che è il web, che è il maledetto telefonino, e che è necessaria un'alleanza tra genitori ed insegnanti, perché sennò questa lotta diventerà difficile da vincere. Guardate quello che sta succedendo adesso, questo libro è stato quasi profetico, perché con la didattica a distanza non avete idea di che cosa sta succedendo nelle famiglie. Cioè ormai il web è entrato, occupa, non dico 24 ore, ma quasi, della vita di ogni famiglia. I genitori, i figli, gli insegnanti. Cioè ormai la didattica virtuale si fa sul web. Quindi mai come adesso è assolutamente necessario il controllo dei genitori su quello che i figli fanno nel web. Ecco, provo a immaginare in una famiglia con due figli e i genitori, magari uno dei due insegnanti, come possono dividersi computer, come possono dividersi tablet e smartphone. Guardate, io non credo di esagerare se ti dico che siamo tutti sull'orlo di una crisi di nervi, perché il tempo che stiamo passando da noi dal computer, io sono anche un insegnante, non ho mai, confesso, non ho mai dedicato tanto tempo alla scuola, perché fare didattica virtuale significa che ti arrivano i compiti, li devi correggere, li devi mandare per email. Poi c'è la classe che utilizza WhatsApp, quella che utilizza Zoom, quella che utilizza WeSchool, quella che utilizza Skype. Io mi sto facendo una cultura disperata su queste cose, chiedo aiuto ai miei figli, ma è uno stato di tensione continuo, perché stamattina mia moglie, che è un'insegnante anche lei, cercava di fare una riunione di dipartimento, è stata una tragedia, perché non tutti si sentivano, non tutti si collegavano bene. Ormai noi viviamo, mai come in questo periodo, a casa, chiusi con il web, quindi l'alleanza ritengo che sia assolutamente necessaria. Ecco, allora, un'altra domanda un po' scomoda, va, intendiamone in questo modo, è giusto sottrarre... Puoi farla, non c'è problema. Lo so, approfitto appunto anche della tua presenza. Allora, è giusto sottrarre e controllare o controllare lo smartphone dei propri figli? Non è giusto, è necessario. Io sono anche uno psicoterapeuta. Io il pomeriggio lo passo nello studio. Le cose che mi vengono a raccontare sono non solo inquietante, a volte anche grottesche e a volte anche drammatiche. Io sempre più spesso mi occupo di tragedie che si consumano sul telefonino. Vi faccio un esempio. La ragazzina di quinta elementare, quinta elementare, che siccome ci arriva il suo fidanzatino che era un compagno di classe, il fidanzatino dice a questa bambina, perché stiamo parlando di bambini, se mi ami, se vuoi stare con me, se vuoi essere la mia fidanzatina, vai a casa, fatti una foto nuda e mandamela. La bambina non ci ha pensato su due volte, è andata a casa, si è fatta la foto, il selfie e l'ha mandato al suo fidanzatino. Il fidanzatino che ha fatto ha preso questo selfie e l'ha diffuso su WhatsApp, su web, non so, cioè, insomma, l'ha diffuso. La mattina dopo la bambina torna a scuola, tutti la guardavano e ridevano, lei non riusciva a capire perché, si avvicina alla sua amica intima e glielo chiede perché tutti quanti li guardano e ridono e l'amica di questa bambina prende il suo telefonino e le fa vedere il selfie in cui lei era nuda e dice ecco perché tutti quanti stanno ridendo. Questa bambina a scuola non è andata più, è andata a casa, si è messa a piangere, a scuola non ci vuole andare più e non è andata per dieci giorni a scuola, non dicendo ai genitori qual era il motivo per cui non voleva andare a scuola. Cioè, mi spiego, quando io mi sono occupato di questa bambina, mi sono occupato perché i genitori erano disperati perché la bambina non voleva andare più a scuola, ma i poveri genitori non sapevano per quale motivo non volessero andare a scuola. Ci è voluto un bel po' di tempo per capire, perché poi questa è la drago, tutti tacevano, omertà assoluta su questo argomento. E quando ho scoperto qual era il vero motivo per cui non voleva andare a scuola, i genitori addirittura non solo hanno provato a cambiarla di scuola perché avevano capito che la bambina là non ci sarebbe mai tornata, ma stiamo parlando di un paese in provincia di Bari, l'hanno iscritta alla scuola di un altro paese e con il tempo si sono trasferiti in questo paese. Vi lascio pure immaginare che cosa è successo con i fratellini che avevano i loro amici nelle loro scuole. Cioè una famiglia distrutta, letteralmente distrutta, da questo selfie. Guardate, io non voglio creare allarmismi, però ho il dovere proprio di dirvi che su questa materia ormai c'è tutta una corrente del diritto che si sta specializzando, perché in altri casi di cui mi sono occupato, caso in cui c'è stato un falso profilo, cioè una ragazzina di scuola media ha messo la foto della sua amica, foto diciamo così eloquente dell'amica, mettendo anche il nome di questa amica e dicendo che questa era disponibile a fare determinate cose. Anche queste foto con questo falso profilo si è diffuso, è arrivata una serie di proposte indecenti, finché i genitori se ne sono accorti, hanno capito che chi aveva fatto la foto era questa amica e l'hanno denunciata. Ora, attenzione, siccome queste denunce penali non hanno seguito al di sotto dei 14 anni, perché l'imputabilità inizia a 14 anni, ci sono stati dei genitori che hanno fatto causa, chiedendo un risarcimento del danno, ai genitori della ragazzina che aveva diffuso queste foto, per colpa in vigilando, si chiama così. Cioè in pratica i genitori hanno il dovere di vigilare su quello che fanno i figli. Se i figli sfuggono da questa vigilanza e commettono reato, diventano responsabili i genitori. Per fare la breve, i genitori della vittima hanno chiesto il risarcimento ai genitori della colpevole e i genitori della colpevole hanno pagato fior di quattrini. Con i ricorsi in appello, in cassazione, hanno avuto ragione i genitori della vittima. Quindi, la domanda di prima qual era? Vale la pena controllare? Certo che vale la pena. Non solo vale la pena per un fatto morale, per un fatto educativo, per un fatto etico. Adesso vale la pena anche da un punto di vista legale, non so se vi spiego. Le conseguenze possono essere pericolose. C'era una mamma, quando dice a questa mamma signora, ma lei controlla il telefonino di suo figlio di scuola media? E dice, ma no, dottor, io non vorrei violare la privacy. Ma che? Cioè, violare la privacy. Tu stai facendo la mamma. Hai il dovere di controllare. A 18 anni si può mettere la password, non ci sono dubbi, perché è diventato maggiorenne. Però, senza che lo diciamo in giro, anche se il figlio ha 18 anni, io il telefonino ogni tanto la controllata, gliela darei, senza dire ne dal figlio. Ma questo rimanga fra di noi, insomma. Questo rimanga tra di noi, è vero. Allora, in questo libro, dedicato davvero a genitori e insegnanti, potrete trovare tanti spunti interessanti di riflessione, tanti suggerimenti, tanti consigli e istruzioni per l'uso. Vi ricordo il titolo, Genitori versus insegnanti, come allearsi nella sfida educativa del web, edizioni La Meridiana, affirma di Salerio Abruzzese, che ringraziamo di cuore per essere stato con noi. per la sua disponibilità e sicuramente torneremo ancora ad affrontare questo argomento, perché sono davvero consigli molto, molto utili ai genitori che ci seguono. Grazie ancora, Saverio. Quando volete, sono a disposizione. Grazie, ciao. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Grazie.